Ho scelto l'Umsa perché voglio essere un brillante avvocato, una brava insegnante, una fermata giornalista. Tutto è iniziato qui, Roma, al centro della storia. Grazie al passato posso scoprire il futuro. Mi oriento in studi complessi con semplicità. Vedo il mio obiettivo, il mio futuro e lo vivo da adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.